Io credo che la politica recupera serietà e credibilità esattamente nel momento in cui decide. Il cittadino chiede alla politica nazionale, alla politica amministrativa di decidere. Quello che sta emergendo da questa vicenda è che l'amministrazione locale, che ormai la Raggi, che ormai amministra da mesi il Comune di Roma, sta decidendo di non decidere. A Roma decide la Raggi o decide Grillo? Perché un giorno dicono lo stadio si fa, il giorno dopo dicono lo stadio non si fa, poi dicono lo stadio si fa ma si fa da un'altra parte. Cioè quello che emerge, secondo me, al di là del merito del problema dello stadio, è l'inadeguatezza amministrativa di chi oggi sta amministrando la città di Roma. Ed è quello, ho già avuto modo di dirlo, il terreno di sfida sul quale noi lanciamo appunto la sfida al Movimento 5 Stelle. Cioè la capacità di passare dal fatto di essere un momento di protesta, che ha raccolto tanto consenso rispetto all'incapacità della politica di dare risposte importanti, al campo della proposta. Ed è qui che noi stiamo sfidando il Movimento 5 Stelle. Cioè sulla capacità di amministrare una città con mille problemi, la cui eredità che è stata lasciata alla Raggi è sicuramente una eredità problematica, ma che dopo tanti mesi di amministrazione non si vede un bricio di capacità amministrativa su mezzo problema. Questo è l'esempio, ed è la parafrasi, nel modo di vedere, dell'incapacità del Movimento 5 Stelle di risolvere i problemi. Dopodiché secondo me c'è questo grande enigma rispetto al fatto che a Roma governa la Raggi, che è stata democraticamente eletta con oltre il 60% dei voti dei romani, o il babysitter Grillo che sistematicamente deve intervenire per tamponare un'amministrazione che sta dimostrando una palese incapacità. Dopodiché abbiamo il blog che gli attivisti che sono contrari, il Consiglio Comunale che ha votato una delibera ma che oggi una parte di quel Consiglio Comunale rinnega. Quindi sta emergendo in maniera lampante la fotografia di quello che è il Movimento 5 Stelle, un movimento che ha avuto dei meriti storici, raccogliendo tanto consenso, ma quando deve tramutare quel consenso in una capacità amministrativa, e vale per Roma ma per tante altre città, Livorno, Parma, realtà amministrative dove il Movimento 5 Stelle avrebbe dovuto dimostrare di saper risolvere i problemi dei cittadini e credo che questa sia la parafrasi di ciò che accadrà se il Movimento 5 Stelle verrà chiamato democraticamente a gestire i problemi del Paese. Non saranno mai alleati, nemmeno per sbaglio, no? No, ma l'abbiamo sempre detto, noi ci sono alcuni temi rispetto a quali c'è una divisione totale. Proprio per la Raggi i vostri voti sono andati alla Raggi, proprio per il Sindel sono andati alla Raggi, questo lo hanno dimostrato l'analisi dei fussi di voto, l'analisi dei flussi di voto, quindi un dato oggettivo dimostrò che la vostra parte votò ai tempi del Sindaco per la Sindaca. Io però faccio un'analisi politica 8 mesi dal voto, la città di Roma oggi è migliore o peggiore rispetto a 8 mesi fa? I servizi sono migliorati oppure no? Il degrado è migliorato sì o no? La sicurezza è migliorata sì o no? La pulizia di Roma è migliorata sì o no? No, la risposta che mi sento dare da chi vive a Roma mi pare che vada nella direzione bene opposta rispetto a una buona amministrazione. Però, di fondo...